con gli asmannucci, rientra anche Massimo Columbo che si avvicina con Cassiux, dietro di lui Uraganabella con Rocco Betti, Coronas con Silvano Mulas, sono scambiati i Coronas e Uraganabella, ora riprendono le loro posizioni, di rincorsa abbiamo detto Verano con Marco Betti e riparte un po' la confusione che c'era anche prima all'interno dei canapi, guardiamo altri due, più che partenza erano più, ecco, ora pare che la partenza sia valida Marco Bisti, primo con Verano, veramente il più esperto e sta confermando le sue doti, secondo ora c'è Massimo Columbo con Cassiux e Uraganabella con Rocco Betti, rientra anche Mannucci con Cripta in terza posizione, ma Verano è ancora primaverano, secondo Cassiux e Massimo Columbo è il terzo, Cripta con Elias Mannucci, sta confermando quello che ha già fatto vedere qui a Monticiano, veramente. Bellissima corsa credo che a questo punto Verano vincerà questa corsa, secondo sta rientrando Lias Mannucci, con Cripta con Calumbo.